Se non c'è la ricerca, quando arrivano e stavano... Ma perché stavano? Ma io ho avuto la ricerca... ...quì a... ...in baro... ...in baro... ...in baro... ...in baro... ...in baro... ...quì... ...una volta mi ricordo qui... ...è... ...stava... ...Gabrielli con le luci... ...venne in palestra... ...con frontino... ...venne in palestra... ...con frontino... ...maestro... ...maestro... ...andolo uguali... ...con soltanto... ...maio... ...andami uno... ...a seguire... ...Pembe Quini... ...cintura rossa... ...Luciani Di Colo... ...cintura blu... ...zu... 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 A seguire Pepe Quigna Merito, Sicurino, Luciani, Corco, Spogna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.